Musica 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 grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a Peppe che non è qua purtroppo perché sta lavorando, oggi è stato anche addetto stampa del rally, mio padre che mi fa correre in questo bellissimo sport, i miei sponsor e al mio team colombi e al mio team colombi e al mio team colombi e al mio meccanico che è stato oggi istancabile veramente. Abbiamo fatto lavorare tanto.